Dallù Per il lancio delle uova, che si farà dopo. Palestra. Ok. Dai, forza. Cosa fate stasera? Vincete? Bravi. Bravi. Vai, vai. Ma questo è allenamento, vero? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Rilascia. 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 Ammazza te. Ma i ganci valgono? No. Ah. Rilascia. 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 Non lo immaginavo. Tre pari. Quattro pari? Quattro pari? C'è l'acqua? Un momento, adesso come faccio a prendervi? Ragazzi, è un casino adesso. Non ce la faccio. Bello! Ma questi ragazzi... ragazzacci... Bello! 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 C'è la palla in fondo! Eh, ti ho già provato tre volte... La pallina è ritornata! La pallina è ritornata! C'è la pallina che sta in fondo! La pallina è ritornata... высокio! E' l'acqua in fondo! Ha dovuto dare il progetto? Che non puoi accorgere il progetto? Non miacchierete! 7-5 un cavallo con il freno guarda 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 l'hai sentita questa? eh? l'hai sentita guarda 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 guard00 8 a 5 A 5 8 a 6 9 a 6 10 10 Fine? No 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 10 10 Fine? No 1 Aspetta ragazzi Vai Vai Sì 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 1 a 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 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 4 4 5 5 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 7 7 8 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 11 10 11 10 10 10 10 11 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 vai 6 a 3 6 a 3 6 a 3 6 a 3 6 a 3 6 a 3 7 a 3 7 a 3 7 a 3 7 a 3 8 9 9 10 7 a 3 7 a 3 7 a 3 7 a 4 7 a 4 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 14 14 14 14 15 15 15 15 16 15 15 Grazie a tutti. 9 a 4? 9 a 4? 9 a 4? 9, perché non arrivi al 10? Azzerato? 1 a 0 per i rossi. 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 2 a 1 per i rossi. 1 a 0 per i rossi. 3 a 1 per i rossi. 1 a 0 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 per i rossi. grazie a tutti 3? 4? 4 è blu e 3 è rossi che cosa era quello? c'entrava mamma mia 4 pari 5 a 4 per i blu 6 a 4 per i blu siamo in un momento di... 6 a 4 per i blu 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 7 a 5 per i blu 7 a 6 per i blu 7 a 7 per i blu 8 a 7 per i blu 8 a 7 per i blu 8 a 7 per i blu 9 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 a 7 per i blu Ciao! Oh, bravo! Non lo devi scegliere però! Bello, allora è bello! Allora, la prossima! È tutta la partita! Per cosa andate? All'undici? Sì! Allora! Dieci per i rossi, sette per i blu! Vai, vai, vai! Vai, vai! 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 Vai!